Ovviamente ci siamo preparati con l'antico rituale della novena. Non sappiamo in che data, in che anno, hanno stabilito i nostri padri vivere questi nove giorni in preparazione al 2 luglio, che partono dal 23 di giugno fino al 1 luglio e poi il giorno 2, la festa della Madonna, in cui per antica tradizione, ma anche perché era questa un po' con la prassi, in quanto la nostra cultura, la nostra società all'epoca era condadina, le novene venivano fatte alle 5 di mattina. E qui è rimasta questa tradizione. Dopo questi eventi di carattere religioso, ieri c'è stato il Vescovo, stasera concluderemo con la Messia Sorenne, da domani inizieranno momenti ludici, quindi di condivisione, di musica, di canti, per alledare anche un po' il quartiere, ma non solo, perché tra l'altro la festa della Madonna delle Grazie non è festa parrocchiale più ormai. Non solamente è giulianesa, ma oltre vengono da vari comuni del circondato, quindi vengono a venerare. Ma questo però oggi in modo particolare, in questi giorni, ma tutto l'anno, ricorrono a lei per ottenere le grazie sospirate.